Ecco, recentemente vi siete conquistati un bel podio nel concorso di poesia dialettale a Pedrengo. Eh sì, cioè è stata una gioia per tutte e tre, perché noi oltre che essere poeti siamo anche amici, per cui partecipiamo a vari concorsi e siccome quando si fa un concorso si comincia a premiare quelli più indietro, no, per cui io dicevo, perché ci siamo visti, non è che siamo trasparenti, ci siamo tutte e tre probabilmente siamo finalisti, però c'è il sesto, c'è il quinto, c'è il premio speciale e alla fine ha chiamato altri poeti eccetera e mi sono reso conto che i tre dell'Alta Val Seriana avevano conquistato il podio e non sapevamo ancora chi fosse il primo, il secondo e il terzo, ma io penso, almeno come sono stato io, eravamo strafelici perché eravamo, oltre che appunto abituati dei concorsi, anche grandi amici e per cui la gioia è stata doppia. E voi credete molto nella poesia dialettale? Sicuramente sì, altrimenti non parteciperemo nemmeno ai concorsi, uno dei tanti motivi che ci spinge oltre alla passione dello scrivere, le nostre memorie, i nostri ricordi, le nostre sensazioni è anche appunto quello di mantenere vivo il più possibile quello che è il nostro dialetto perché questo ci mantiene e salvaguardia quello che sono le nostre origini, la nostra terra, i nostri avi quindi benvengono questi concorsi per appunto mantenere vivo questo. Quindi c'è questa forte amicizia che vi lega? Dunque, la cosa, noi ci troviamo parecchie volte ai concorsi, non sempre, magari uno è segnalato, l'altro è premiato, uno è più avanti, uno è più, però ecco, questi concorsi, oltre a quello che ha spiegato, o meloncelli che servono proprio per riuscire a tenere ancora un po' vivo questa nostra bella parlata, ecco, questi concorsi ci hanno anche portati ad essere degli amici, non c'è invidia tra noi, almeno per quanto mi riguarda, non c'è nessuna invidia. E' per questo che oggi trovandoci qua, come ha già detto bene Luigi, ci siamo tutti e tre e siamo contenti di essere arrivati sul podio di Pedrengo e di essere qua ancora assieme a rivivere questo momento e a parlare di dialetto.